Siamo qui con Erika Ghezzi nel dopo partita. In La Mezza si è dimostrato avversario molto duro. Sì, è un avversario di tutto rispetto, noi lo sapevamo. Siamo partite un po' contratte perché comunque loro hanno tanti punti di riferimento e hanno tante giocatrici di esperienza. Poi però ci siamo riprese bene facendo le nostre cose come sempre. Ti abbiamo visto in campo concentratissima, serissima e sei stata molto cercata e nei momenti cruciali sei stata determinante. Ti ringrazio innanzitutto. Vabbè, io devo fare questo. Noi ci diamo una mano tutta in squadra, quindi ognuno ha il suo compito. E per vincere queste partite è necessario che ognuno faccia un piccolo pezzettino di qualcosa. Una delle qualità della nostra squadra è quella che viene alla distanza, tiene il passo delle lunghe distanze mentre le avversarie calano. Noi invece sembriamo dare il massimo alla lunga. Sì, diciamo che noi da subito partiamo un po' contratte. Poi forse prendiamo fiducia dei nostri mezzi e alla lunga andiamo bene. Grazie. Grazie. Grazie.